il burresto il burresto io gli appigliavo allo socro di Genova e ci mando un burresto e non so se il burresto che ero solo il burresto guarda me quando mi ci manda la lettera guarda me il burresto perchè mi stava a far burrino devo rimanere me la faccio un po' il burresto il burresto quella che ha fatto lui è là Adriano all'opera uccine la mia si dimmi a Pagnano che grazie ma papà è stato adattamento a Pagnano 30 anni fa io sono 5-6 anni posso venire da voi?